Dottore Claudio Saracino, se tu hai problemi o tu o uno dei tuoi cari o un tuo figlio eccetera eccetera di succhiarsi il pollice sappi che esiste l'ipnosi vera e professionale che può risolvere questo problema per cui ti invito a sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale nella tua zona e a risolvere questo problema con l'ipnosi vera e professionale oppure scrivermi a ipnologi associati che oggi è una libro.it e ti darò gratis i migliori consigli in materia di ipnosi vera e professionale sul come fare anche da solo da solo la tua stanzetta per eliminare questo problema del succhiarsi il pollice ok e molti alcuni se lo portano anche in tarte età in età adulta non devi credere devi soltanto fare visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor Claudio Saracino visita il mio sito internet www.ipnosi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesser dottore Claudio Saracino faccia il condividi con amici parenti perché può essere quel guide che gli cambia la vita e se ha voglia puoi cliccare sulla campanella così quando io pubblico un video ti arriverà una notifica lo potrai vedere in diretta magari riguarda te e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesser dottor Claudio Saracino al prossimo video un bacio un abbraccio ciao ciao ciao